Il primo importante evento sportivo dell'anno per Montalcino è la Brunello Crossing, giunta quest'anno alla terza edizione. C'è venuto a trovare in redazione Adesso Strada che ci illustrerà tutte le novità di questo evento che comunque richiamerà a Montalcino tanti sportivi. Buongiorno, allora terza edizione che sta procedendo bene, abbiamo allo stato attuale un più 50% di iscritti e inoltre una novità di quest'anno che ci fa credere di aver lavorato bene i primi due anni è la presentazione durante la Brunello Crossing di una squadra nazionale. Il nostro sponsor, Oka, che ha deciso di venire qui a Montalcino a presentare il proprio team del 2019. All'interno del proprio team ci sono dei campioni tra cui Collè che ha vinto nel 2018 il Tour de Jean. Per chi conosce il trail è una delle gare più massacranti, sono 330 chilometri con 24.000 metri di dislivello. Lui l'ha vinto due volte. Inoltre torneranno degli atleti che hanno vinto la seconda e la prima edizione fra cui appunto Lucchese che è anche il campione italiano di 100 km trail e Bosatelli che ha vinto la prima edizione della Brunello Crossing e ha vinto il Tour de Jean anche lui tre anni fa. Nella Oka ci sono anche altri campioni fra tutti De Gasperi che è stato a lungo un campione italiano di trail. Questo ci fa onore, però ovviamente ci dà l'onere di continuare in una buona organizzazione. Noi ce la stiamo mettendo tutta, io ovviamente non sono solo, ci sono circa 20 persone, tutte di Montalcino, che mi danno una mano e questo è anche bello perché in un momento di bassa stagione, come a febbraio, si ricrea dei motivi per riunirsi. Magari soltanto il giorno della gara da 20 diventiamo anche 50 volontari e questo fa sì che questo evento diventi anche un evento di divertimento. Parlando un po' di numeri, quanta gente è comunque attesa qui a Montalcino e cosa significa un evento del genere nel mese di febbraio per il turismo e quindi strutture ricettive in primis, ma anche per i prodotti del nostro territorio che si possono comunque mettere in vetrina? Sì, allora, ai numeri si sta parlando di... quest'anno il nostro target è di 1600 iscritti e se tutto va bene lo raggiungiamo. Noi non abbiamo voluto strafare, il primo anno il target era 800, abbiamo fatto 950 iscritti il secondo anno era 1200, abbiamo fatto 1400 iscritti speriamo quest'anno di arrivare a 1600, ma insomma con un più 50% crediamo di arrivarci. Più c'è l'indotto, cioè i familiari con questo crediamo che su Montalcino a febbraio, in un momento di bassissima stagione turistica quel weekend crediamo che ci siano circa 2000 persone, 2200 persone comunque le strutture che il primo anno magari non erano nemmeno tutte aperte adesso ci vengono, sono aperte e ci chiedono di essere inserite nella nostra sezione dove dormire del sito web a cui chiediamo nessuno sconto ma semplicemente il servizio dell'e-checkout perché fra i partecipanti di queste gare c'è anche chi le fa, non dico a passo ma comunque ad una corsa molto lenta e ci mettono fino a 6 ore per completarle inoltre quest'anno per la prima volta abbiamo creato un expo all'interno del chiostro di Sant'Agostino in collaborazione con il consorzio del Bronello dove sarà possibile far esporre tutti i prodotti a chilometro zero comunque locali per poter permettere anche a prodotti diversi dal vino cioè il vino ormai Montalcino è sicuramente qualcosa che aiuta anche noi direttamente e indirettamente poter permettere a tutti loro di esporre i prodotti di nicchia che comunque avranno la possibilità di farsi vedere da circa 2000-2500 persone che in quei due giorni gireranno sul Montalcino Grazie 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 Grazie